Sì, di punto, senza senso e senza intro Non ce la faccia più forte di me E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo E benvenuti a... Sì, aia Bentornati su FNAF VR Sì, ragà, sto gioco mi sta prendendo troppo È fatto veramente benissimo Ma soprattutto mi avete detto un paio di cose che dovrei fare in questo episodio Tra cui raccogliere le monete Scusate, non lo sapevo Però non lo spoilerate Pizz A quanto pare ci sono delle monete in giro nel gioco Che devo prendere per poi andare al Price Counter Che adesso accendiamo Per prendere i cosi, i regali Io voglio il peluche di Fretti No, quello di Foxy Ho già scelto Insomma, per prendere le robe belle E niente, ragà Ce li siamo? Lasciate un like E andiamo a morire ammazzati Per oggi voglio andare a fare la prima notte di FNAF 2 Più un coso della parte in service e poi vediamo Quindi Iniziamo Final Fantasy 2 in VR Che proprio è il gioco più spaventoso di sempre di FNAF 2 Quindi Ora ci abbiamo pure la maschera Quindi come dobbiamo fare per metterci la maschera? Non si credo No, ragà Ho sempre sognato FNAF 2 in VR Allora, a te A te ti muto Muto tutta la vita Allora Poi tornati su Posso illuminare la luce? Ah Così illumino le luci a sinistra e a destra No, ragazzi Secondo me FNAF 2 è il più spaventoso Aggiungiamo le telecamere Telecamere numero 8 Non c'è nessuno C'ho una torcia? Si dovrà avere una torcia in mano per illuminare, giusto? Ah, no, no Peccato Poteva tutti iniziare una torcia Sarebbe stato molto più figo Wow Bellissimo Guardate che scherzo, ragazzi Andiamo, andiamo avanti Pallon Boy Mi sono dimenticato Che ferrofido c'è Pallon Boy Morto Subito Posso illuminare giustamente le telecamere Peccato Una torcia Poteva Il puppet, vero? Ah, ok A posto il puppet A posto Quindi c'è un testo apposito per il puppet Bene Controlliamo a destra Controlliamo a sinistra Come faccio per l'evento? Mi devo mettere la maschera E poi L'una del mattino Se non sbaglio Quando c'è Poxy Devo flashare A rotta di collo Invece per altri animatronics Non credo Non mi ricordo Animatronics Dove siete? Ciao Ciao tuoi freddi Ciao tuoi freddi Ciao tuoi cico Dove è finito tuoi pony Addio pure tuoi cico Tuoi pony Se non sbaglio è da destra che arriva Carica 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 Ho detto carica Carica Ma posso utilizzare più tasti? Ah sì Posso utilizzare più tasti Mentre carico Ok Questa è una roba bella Tuo cico No Non c'è Non c'è Non c'è Allora Cambi tutti Fermi Fatemi per Ho paura Troppa paura Stai là Ballon boy Tuoi freddi sei l'unico bello e buono In questo gioco Carica Carica Non c'è Non c'è Ballon boy E non c'è nemmeno quello Ci siamo Tu che sei No non ci sei Che cosa sto dicendo Sento Tizi Al primo animatore Che mi attacca Ho un infarto Guardatelo Sta andando qua Mi vuole attaccare Dalle ventole Ho capito Cioè quindi Animatronics Passano davanti Il pappeto è tranquillo Ci sei? No Toitela Ma non mi ricordavo Che ci attaccassi Di là No ragazzi Non c'è un foglio Prendeci la maschera Avrà te Vai ti sta maschera Ok Tu hai buone Di già Abbiamo finito la prima notte Velocissimo What? Che bello Grazie per il regalo Vai Un'altra bevanda Una chica Chug Beviamo Potete dire ciò che volete Ma il migliore gioco Che io abbia visto In vita mia Basta Non ho avuto abbastanza Di FNAF 2 Ne voglio un altro Dai Notte 2 Che c'è Foxy Oh Foxy No 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 Eh però io le monete Non le ho trovate Signori E che faccio? Mamma Notte 2 Oh my god Non c'è Foxy Ci risiamo Siamo di nuovo qua Allora vediamo Dove è Foxy Foxy stava C'è scritto Party Party Non è che si vede bene Ventole Di volta che c'è rumore C'è qualcuno nel corridoio Giusto? Voi tre siete là Tranquilli Il mio problema Signori È Foxy Se non sbaglio Non c'è bisogno Di mettersi la maschera Per Foxy Se ben mi ricordo Ehi Bonnie Ma tu e Bonnie Cammina Cioè L'ho visto camminare Tu e Bonnie Da quando è qua Cammina tu e Bonnie Foxy Ma che ci fai là? Non eri là tu Cosa? Cosa? Ballonbo no Ballonbo E ti prego no Quando c'è Ballonbo Che devo fare? Mi devo mettere la maschera? Non mi ricordo Ragà Non mi ricordo Che devo fare Non c'è Ma quindi vuol dire Che è Ballonbo Solo quando è qua Mi devo mettere la maschera Vero? Eccolo Ma che mi sei Ma metti te Sta maschera Si è scappato? Oh Foxy Ehi Bonnie Ma perché siete così pericolosi? Carica Dannati Importante di caricare sto cuoso Come si toglievato i freddi? Ah Ciccato Ciccato Bellissimo Bella Bella Dimmi che funziona Ha funzionato Così funzionava Ah Oh Io ho paura Sono il ninja di fraff Posso battere sta notte 5 del mattino Da che è easy Wait a minute Wait a minute Ho paura Il frame di snow Ho bisogno Ok Quello è entrato nelle ventole Ma si vede nelle ventole? Non si vede? Ah Foxy via Foxy via Sta arrivando freddi Sta arrivando freddi Allora con freddi mi devo mettere Sei nel mattino? E' il ninja di fraff Yes Almeno Scott Dammi un regalo bello Dammelo Ti prego Ma che è sta roba? Che è? Disappointment Disappunto Mangia Oh ma è sto gioco tutto Ci può mangiare Vabbè Ok ragazzi Andiamo a fare qualcosina Tipo Bè C'è Chica Da sistemare Vai Chica Quella Chica Mamma mia Quanto Se è troppo Questa 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 Una moneta? Ecco le monete Finalmente Ah ma allora ci sono le monete Ah qua c'era un'altra Vi ho trovato le monete Uno scarapaggio Che c'era uno scarapaggio? Che devo fare uomo? Devo pulire Chica Da sta pizza Prima ci vado di qua E prima ci vado di qua Perché non ci sono Ma chi è Chica? Ma chi è Chica? Ce la puoi fare Sopra il bibi Chica Sopra il bibi Che mi guardi così? Va bene Eh sì però respira Se no ti disintosso Cupcake Eh porca miseria Yes Che Che mi guardi così Ok ragazzi Due monete Va bene Almeno ne ho trovato Due Ho un'altra moneta Ah ma se vado in giro Io riesco a trovare le monete Ora sono a tre Signore qua ci sono altre monete Che posso prendere Senza che mi diri Magari Cavo Oddio Ma quello è Shadow Bonnie Ho Shadow Springtrap Presumo che più monete Io prenda Più quello compare Dannazione Ok Ok ragazzi Io spero Che questo secondo Episodio Di FNAF VR Vi sia piaciuto Abbiamo fatto più cose Nel prossimo episodio Ne faremo molte di più Molto veloci Da completare Sto game E niente Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Da centissimi pollicioni in su Per un prossimo episodio Di FNAF VR E seguitemi pure Su Instagram Quale è il vostro Lorenzi Sì è tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ehi Ciao Ciao